buongiorno amici e ben ritornati sul mio canale fermentum oggi prepareremo insieme i burger buns soffici panini che ricopriremo con dei semi misti facili e veloci da preparare nella versione salata li potremmo farcire con un hamburger con delle salse o con i condimenti che più ci piacciono ma potremmo fare anche una versione dolce quindi senza mettere i semi al di sopra dei panini e li potremmo utilizzare mangiare a colazione o per merenda spalmandole con della marmellata o semplicemente con delle creme spalmabili ricordatevi di lasciare un like o un commento e di iscrivervi al canale tramite il pulsante qui sotto andiamo a prepararli mettiamo la farina in una ciotola aggiungiamo il lievito e amalgamiamo aggiungiamo tutta l'acqua aggiungiamo il latte aggiungiamo lo sciroppo di malto se ce l'avete bene se no potete anche farne a meno mettiamo il sale lo zucchero l'uovo e iniziamo ad incorporare pian piano la farina con le mani lavoriamo bene fino a quando l'impasto non avrà preso consistenza aggiungiamo il burro tagliato a pezzetti in più riprese aggiungiamo altro burro solo quando il precedente è stato assorbito completamente nell'impasto finito di aggiungere il burro iniziamo con l'olio anche questo in più riprese un poco per volta ad olio assorbito passiamo sulla spianatoia e luitandoci con un tarocco gli facciamo qualche piega di rinforzo a un'ulio Chiudiamo l'impasto, copriamo con una ciotola e lasciamo riposare per circa 15 minuti. Facciamo ancora qualche altra piega in modo da rendere l'impasto liscio ed omogeneo. Mettiamo in ciotola e copriamo con pellicola. Lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio, ci vorranno circa 2-3 ore. Ad impasto raddoppiato lo ribaltiamo sulla nostra spianatoia dopo averla infarinata. E lo porzioniamo in pezzi da 120-130 grammi. Schiacciamo bene in modo tale da far fuoriuscire tutti i gas creatisi durante la prima lievitazione. E passiamo alla formatura dei singoli panini. Pieghiamo bene prima da un lato e poi dall'altro e poi li chiudiamo con entrambe le mani. Per cospargerli di semi io utilizzo una tecnica molto semplice che è quella di preparare due piatti. In uno mettiamo i semi misti, nell'altro mettiamo un tovagliolo imbevuto con dell'acqua. Tenendo l'impasto dalla parte della chiusura, prima lo passiamo nel piatto dove c'è il tovagliolo con l'acqua e poi lo passiamo nel piatto dove ci sono i semi. A presto. 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 trasferiamo in teglia e ne andiamo a cuocere in forno ben caldo a 190 gradi per circa 20 minuti fino a quando non saranno ben colorati ed ecco pronti i nostri burger buns qui ho deciso di maltrattarne uno solo per farvi vedere quanto sono soffici amici vi ringrazio per aver preparato insieme a me questi panini se vi va lasciate un like o un commento e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video